Circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Con queste accuse, la Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito tre provvedimenti cautelari nei confronti di un abbadante, di un cugino e di un terzo soggetto che avevano messo le mani sul patrimonio di un ricco medico in pensione, approfittando della sua fragilità fisica e psichica. Dalle indagini preliminari della Guardia di Finanza di Castelvetrano è emerso un quadro desolante. L'abbadante del facoltoso medico in pensione con le carte di credito dell'anziano acquistava beni di lusso e faceva spese voluttuarie e con la promessa di assisterlo per tutta la vita si sarebbe fatta cointestare dal malcapitato, solo e senza figli, un conto corrente dal quale avrebbe poi disposto alcuni bonifici a favore di se stessa per un valore di oltre 55 mila euro. La donna avrebbe poi convinto l'uomo a sottoscrivere un atto con il quale si sarebbe fatta consegnare oltre 464 mila euro a titolo di vitalizio. Ma i guai per il facoltoso anziano non finivano qui perché anche un suo cugino, anche lui indagato, si sarebbe fatto rilasciare una procura speciale per operare su un conto corrente dal quale poi faceva acquisti e da cui avrebbe disposto bonifici in proprio favore per oltre 146 mila euro. Le fiamme gialle del comando provinciale di Trapani, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla procura di Marsala, hanno dato esecuzione ai tre provvedimenti cautelari emessi dal GIP. Il giudice, accogliendo le richieste avanzate dai magistrati, ha disposto anche il divieto di avvicinamento e il contestuale sequestro preventivo per complessivi 174 mila 350 euro nei confronti dei tre collaboratori infedeli, che restano indagati per i reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio.